Qua è il Villoresi, adesso lo vedete qui, però parte dal Ticino e arriva all'Adda. Perché essendo un canale di irrigazione d'inverno non serve, allora tolgono l'acqua, in teoria per pulirlo, molto in teoria. Però poi l'estate è bellissimo. Attenzione! Allora, già adesso con la pista ciclabile, lo so perché l'ho fatta, da zona Monza si arriva fino ad Arconate. Ad Arconate, facendo un pezzettino, si può andare oltre ancora. Ci sono due o tre punti tra Garbagnate e Arconate dove uno in uno si attraversa la strada e in un altro si fa un giro un po' strano. Collegati quelli, è completa da Monza ad Arconate perché in realtà il Villoresi va oltre Monza e poi... E poi, dov'è che va dentro l'Adda? Non mi ricordo.